Nel tempo dei consigli adatti per fare un discorso mi sono detta che canterò una canzone e da internazionale che io ho fatto, visto che siamo riunuti così internazionalmente ho pensato di fare né una canzone in tedesco, né una canzone in italiano, né in francese, né in italiano nessuna lingua di quelli che parlate qua ma il macedone Cosa che siamo ora so in international flammene, ho pensato che non si non si sentiate in italiano, non si sentiate in francese e non penso che che a tutti si sentiate in francese, di che non sentiate in francese E' una canzone tradizionale macedone che parla di una bellissima ragazza macedone con fiori nei capelli. E' un buntaschönes macedonesi flechel mit blumen in mecca. E' un buntaschönes macedone che parla di una bellissima ragazza macedone con fiori nei capelli. E' un buntaschönes macedone che parla di una bellissima ragazza macedone con fiori nei capelli. E' un buntaschönes macedone che parla di una bellissima ragazza macedone con fiori nei capelli. E' un buntaschönes 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 macedone con fiori nei capelli. Grazie. 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 Grazie.